Senti, ti chiedo chiaramente sull'aspetto psicologico della squadra, perché la sconfitta di Torino ha fatto male un po' tanto ai tifosi, si sono sentiti un po' assegnati in orgoglio, una squadra con un po' un assetto rinunciatario, non ti è piaciuta, volevo sapere se avremo domani una risposta proprio dal punto di vista comportamentale dell'atteggiamento, in un'altra sferta difficilissima chiaramente. Sì, certo, ma lo sappiamo, non è che come sapevamo anche la parita della Juventus, d'altra parte la dimostrazione in Champions è una dimostrazione che non è una squadra qualunque, non è una squadra che ti permette magari di fare qualche errore di troppo, in realtà questa squadra ha usato anche nei momenti in cui lo poteva fare, non perdendo l'equilibrio, ma sicuramente i primi tre gol sono nati da una situazione di poca lettura, poca qualità da parte nostra, ma quello che ci è mancato a Torino è la sincronia nelle uscite, quando dovevamo pressare. Siamo stati anche compatti, ma non riuscivamo a essere aggressivi e questo ha fatto sì che magari potessimo subire un po' di più. Fermo restando il fatto che avevamo la Juve davanti, fermo restando il fatto che noi eravamo convinti di andare lì per fare una parita importante. Adesso c'è un'altra, c'è il Napoli, che è un'altra partita dove c'è un avversario di qualità, ma è un'altra partita dove noi cercheremo di fare del nostro meglio e del nostro massimo. Buongiorno mister, è arrivata un'altra convocazione per Kevin Lasagna, la quarta, considerando anche lo stage, segnale che è diventato un punto fermo del giro azzurro ed è nei piani del Cittimancini. A che punto è il suo processo? Perché lei ha più volte rimarcato come purtroppo non abbia mai avuto una condizione ottimale in questi mesi, però ha segnato contro la Juventus e credo che anche sotto quel punto di vista sia una bella iniezione di fiducia per riprendersi, tra virgolette, anche l'udinese. Assolutamente sì, ma Kevin ha delle qualità importanti e in questa settimana è stato pressoché sempre presente e quindi io mi aspetto da lui che vada in campo come entrato contro la Juventus. Fare gol alla Juventus non è mai facile, noi non l'avamo neanche segnato fuori casa e farlo alla Juventus ci dà la sensazione che si può fare meglio e si può fare qualcosa in più. È quello che cercheremo di fare già la domenica prossima. Udinus. Minister, prima e seconda in classifica, in trasferta, consecutive, penso che non accadeva dalla stagione 96-97. Detto questo, qualche giocatore lo recuperiamo, qualcuno purtroppo l'abbiamo perso sia per infortuni che per squalifiche, ma io ti chiedo questo, cosa è che tu domani vuoi assolutamente vedere della tua squadra in campo? Io voglio vedere e vogliamo vedere quello che ci diciamo sempre, quindi la capacità di poter osare mantenendo l'equilibrio. La nostra Champions per noi è la salvezza e questo bisogna essere chiari con le persone perché se no si parla vanvera. E per farlo dobbiamo ragionare nel lungo periodo, quindi abbiamo delle partite, alcune sembrano proibitive sulla carta, altre sembrano ti possono concedere di più, ma a me non interessa questo ragionamento, lo sapete bene, per me ogni partita c'è la possibilità di raccogliere dei punti, poi riconosco il valore dell'avversario. Domani, domani, domenica cosa vogliamo vedere? La cosa più importante per noi, riuscire a dosare e a esprimere il nostro calcio mantenendo l'equilibrio, se non hai questo fai fatica. È vero che abbiamo qualche defezione in più rispetto alle altre volte, io parlo soprattutto per la linea difensiva, però abbiamo lavorato tanto cercando delle soluzioni. Io, lo sapete, non trovo mai scuse, cerco il modo. Il modo lo abbiamo trovato e lo sperimenteremo, vedremo. Udinese Blog. Mister, lei parlava di defezioni, ce n'è tante, lei non cerca mai scuse, l'ha detto, perché trovo il modo, cerco di trovare il modo, non sempre ci riesco. Infatti, trova stimoli per trovare nuove soluzioni. Ma ci sono tante defezioni in difesa, diceva. Ieri ha lavorato a parte De Maio, come sta? Beh, a parte o poco è in utile, vedremo se riusciremo a recuperare Sebastian, se no abbiamo lavorato in una funzione di vedere come poter sopperire a questo. E tra l'altro negli allenamenti non mi è neanche dispiaciuta da questo punto di vista e sono curioso di vederla contro una grande squadra come il Napoli. Messaggero Veneto. Resto un attimo sul tema, hai parlato di un nuovo modo e lo sperimenteremo, hai detto. Parli di un modulo un po' diverso. Nuove soluzioni, soluzioni. Il modo che intendete voi è sempre legato a un modo tattico che noi cambiamo regolarmente anche nel corso della partita, poi non sempre magari tutti se ne accorgono. Perché anche, scusami, due settimane fa hai provato, anche nella Michele, hai provato una difesa 4, quindi hai sperimentato per cercare di andare a cambiare un po' volto, magari portando anche forse magari De Paul un pochino più largo a sinistra, o no? Sì, ma questo lo facciamo regolarmente. L'abbiamo fatto anche nella partita contro la Juventus. A un certo punto non è che giocavamo con un 5-3-2, ma giocavamo con un 3-4-3 che doveva diventare in fase di possesso e un 5-4-1 in fase di non possesso. mantenendo magari due ali, tre attaccanti. Sono state solo due partite dove non abbiamo schierato almeno tre attaccanti. Questo è un modo che mi permette di poter avere un equilibrio con alcuni accorgimenti, mantenendo e schierando la possibilità di poter mettere più giocatori offensivi. Noi dobbiamo fare meglio quello che stiamo già facendo e abituarci agli adattamenti in partita in corso, perché è quello che può accadere, può succedere. Chiaramente mancando, finisco, magari potenzialmente tre difensori centrali, è chiaro che bisogna avere delle accortezze perché andiamo a incontrare una squadra che non gioca un 4-4-2, andiamo a incontrare una squadra che porta tre giocatori molto forti dietro a una prima punta e agisce contemporaneamente con due terzini alti e quindi di fatto costruisce con due difensori centrali e due o tre centrocampisti, oppure con un terzino un po' più bloccato insieme a due difensori centrali e due centrocampisti. Quindi da quel punto è importante coprire bene il campo, però abbiamo lavorato in settimana per questo e quindi sono curioso di vedere gli interpreti in queste posizioni che risposte possano dare. Davvero sono molto curioso. Proprio su questo volevo chiederti perché il Napoli ha qualità e densità in mezzo al campo, però siccome negli esterni è la squadra più forte in Italia, pensi che si possa andare ad arranginare lì e sarà lì la chiave di volta della partita, cioè bloccare proprio le corsie esterne? La chiave di volta della partita è osare mantenendo il giusto equilibrio e quindi ci saranno le condizioni in cui loro sugli esterni sono davvero molto propositivi, ma allo stesso tempo anche quando costruiscono sugli esterni lo scopo loro è quello di andarti ad attaccare la linea con grandi verticalizzazioni centrali, un palla a terra, il classico passaggio avanti e indietro sul terzo uomo con l'inserimento del terzo uomo lo fanno davvero molto bene e noi ci siamo allenati per poter arginare queste loro qualità, ma allo stesso tempo per cercare quegli spazi e quelle giocate che ci possono permettere di dire la nostra. Se siamo riusciti a fare un gol contro la Juventus, perché non possiamo riuscire a fare un gol contro il Napoli mantenendo un atteggiamento però diverso nell'importanza che diamo magari alle singole giocate, perché ripeto contro la Juventus abbiamo sbagliato in fase di impostazione, quindi non è che abbiamo sbagliato perché buttavamo via la palla. Dobbiamo essere più coscienti di questo e dobbiamo crescere soprattutto in questa fase. Messaggero Veneto. Chiedo solo un aggiornamento su Possetto che ha preso questa botta lunedì, se ce l'hai, se è recuperato e anche su Okaka. Okaka è rientrato venerdì, quindi ieri di fatto, e Possetto invece si è allenato regolarmente, salvo poi alcuni allenamenti che abbiamo preferito differenziarli per permettergli di assorbire un ematoma che aveva sulla tibia. Altre domande? Sì, Udinese Blog. Buongiorno. Sempre parlando di giocatori, sono uscite le convocazioni, dieci giocatori in nazionale, poi ci sarà da preparare la partita col Genoa, non il massimo. No, vabbè, ma noi lo sappiamo, così come altre squadre, noi siamo una di quelle squadre che ha più giocatori impegnati con la nazionale. Solitamente si pensa che alla sosta ci sia la possibilità di lavorare diversamente o di più o meglio, ma in realtà poi non rimaniamo solitamente con 5-6, nella migliore dell'ipotesi, 7 giocatori, però concentreremo le attenzioni su questi giocatori, perché alcuni sono in recupero e quindi verranno bene per la partita con il Genoa, quindi mi riferisco ai vari Berami o lo stesso Badu che non sarà pronto per la partita col Genoa, ma sta iniziando i primi allenamenti con la squadra. E quindi ci concentreremo per far giocare questi giocatori, allenarli in maniera specifica, rendersi conto di quanto possono dare e in termini di tempo, in che lasso di tempo possono essere considerati utili. Tutto Udinese. Buongiorno, Ministro. Le chiederei cosa è successo a Teodorsic, perché era rientrato dall'infortunio e adesso sta di nuovo male? Entro quanto riusciremo a rivederlo? Teodorsic non era rientrato dall'infortunio, era rientrato ad allenarsi dopo un'operazione, ma manifestava ancora delle problematiche sul Pube e siccome è un giocatore che ha un carattere importante, di quelli che piacciono a me, faceva di tutto per poter essere disponibile 15-20 minuti a partita. Questo però gli portava un sovraccarico e un'incapacità di risolvere poi il problema alla radice e quindi si è preferito, di nuovo dal punto di vista medico, fermarlo per permettergli un recupero più specifico e che possa rientrare magari ed essere utile la squadra per più tempo, perché questo è importante. Inizieranno poi quel ciclo di partite dove si gioca spesso e volentieri e quindi più giocatori abbiamo meglio è. Non si può pensare che possano i soliti fare tutte le partite. Messaggero Benetto. Profitiamo anche per chiedere su Baracca allora se... No, Baracca credo che sia... per questo campionato non sia sfruttabile. Altre domande? Grazie. Grazie a voi.